La questione dell'età non rappresenta un problema per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che anzi ha colto l'occasione nel corso di una cena dell'Associazione dei Corrispondenti alla Casa Bianca per riderci su e rispondere alle battute. Giornalisti ed esponenti politici si sono riuniti come ogni anno a Washington per un evento nel corso del quale non sono mancate le tradizionali gag comiche ma anche momenti ben più seri come nel caso dell'appello lanciato affinché i giornalisti detenuti all'estero possano essere liberati e più in generale affinché la stampa libera sia garantita ovunque nel mondo.